applausi approfitto di questi applausi per dedicarli ad una amica che non c'è alla nostra Roberta Ramizza che è la collaboratrice numero uno del nostro Bruno Mancini tanto nomine di culto parlo giù come direbbe qualcuno più colto di me e la dedico questa poesia che è bellissima suppongo che sia una delle cose più belle che siano state scritte a Roberta che non c'è però mi dispiace molto di non vederla perché non la vedo neanche la prossima volta Roberta è una poetessa squisita il rapporto con la quale è stato un po' rascorso all'inizio ma per un semplice qui troppo poi ci siamo conosciuti meglio e al miramare quest'estate abbiamo fatto amicizia quindi la saluto delicando appunto questa mia elaborazione grazie 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 grazie